Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella panna e cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero semolato, panna fresca, olio di semi di girasole, farina di tipo doppio zero, lievito per dolci vanigliato, cacao amaro in polvere, vanillina, granella di zucchero e granella di nocciole. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova e le facciamo montare per 5 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Aggiungiamo la farina, la panna, la vanillina, l'olio e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 1 minuto e 30 secondi a velocità 4. Versare metà del composto in uno stampa a ciambella del diametro di 26 centimetri ben imburrato. Aggiungiamo al resto dell'impasto il cacao amaro. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4. Versiamo il composto al cacao sopra quello bianco. Aggiungiamo la granella di nocciole. La granella di zucchero. e cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella, panna e cacao. Grazie e alla prossima ricetta! Ciambella, panna e cacao. Grazie a tutti!